Per una corretta realizzazione della programmazione sanitaria è necessario anche rendere più attrattiva la medicina generale. Troppo spesso è gravata da un aumento del carico di lavoro dovuto a una popolazione che invecchia e che ha una richiesta assistenziale sempre maggiore. È necessario avviare un processo di deburocratizzazione e soprattutto introdurre la medicina generale all'interno del percorso di formazione universitaria in modo che gli studenti possano conoscerla e apprezzarla e sapere che il medico di medicina generale ha un importante ruolo nel panorama assistenziale del sistema sanitario nazionale. Auspichiamo un'accoglienza positiva alla richiesta di un dialogo costruttivo e duraturo con le forze politiche per trovare in sinergia una soluzione all'accesso alla facoltà di medicina che sia equo, trasparente e meritocratico. La corretta programmazione è il full crew carbine per tutelare la nostra categoria e soprattutto il sistema sanitario nazionale.